I carabinieri della compagnia di Agropoli, diretta dal capitano Francesco Manna, hanno rintracciato ed arrestato ad Agropoli un pregiudicato di 34 anni del luogo. Ad eseguire il provvedimento restrittivo emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Salerno, sono stati i militari della locale stazione. L'uomo trova a espriare la pena definitiva di mesi sei di reclusione, poiché condannato per il reato di guida senza patente commesso nell'anno 2010 in Agropoli. I militari dopo le formalità di rito hanno condotto l'arrestato presso il proprio domicilio dove dovrà espiare la pena detentiva e regime di detenzione domiciliare.